Un giorno hai preso 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 ha intriso il modo di pensare dei cristiani allontanando gli angeli, quelli veri, dalla vita dei fedi. Quindi due estremi che comunque allontanano da quella che è la rivelazione biblica, da quella che è nel pensiero di Dio la figura angelica, perché se ne parla in abbondanza nella Bibbia. Per esempio, se noi andiamo a leggere, pochi esempi, ma ce ne sono tanti, è un angelo che in primo re 19 assiste Elia in piena crisi spirituale, il quale allontanatosi nel deserto e abbandonato alla morte chiede a Dio di farla finita con lui. Leggo testualmente. Allora ecco, un angelo lo toccò e gli disse, alzati e mangia. Egli guardò e vide vicino alla sua testa una focaccia cotta su pietre roventi e un orcio d'acqua. Venne di nuovo l'angelo del Signore, lo toccò e gli disse, «Su, mangia, perché è troppo lungo per te il cammino». E ancora, in Isaia 6, è un angelo che praticamente sigilla la chiamata del profeta Isaia, toccandogli le labbra con un carbone ardente. «Ecco, questo ha toccato le tue labbra, perciò è scomparsa la tua iniquità e il tuo peccato». E' spiato lui che temeva per la sua impurità. Nel libro dei giudici, al capitolo 6, è un angelo che appare al giovane Gedeone dopo che gli israeliti fecero tutto ciò che è male agli occhi del Signore e il Signore le mise nelle mani dei Madian. L'angelo del Signore gli disse, «Il Signore è con te, uomo forte e valoroso. Va con questa tua forza e salva Israele dalla mano dei Madian». Ecco, carissimi, tutti questi esempi ci fanno capire la provvedenza di Dio, ma non è finita ancora. E San Raffaele, l'arcangelo Raffaele, a farsi compagno di strada del giovane Tobia che lo aiuta a sposare Sara, che era posseduta da un demonio, consiglia come fare per poterla sposare, consiglia come fare per guarire la cecità del papà di Tobia, del papà Tobi, diciamo. E' lui che consiglia passo passo. E' questo arcangelo che dice quando un pesce lungo il fiume Tigre cercava di divorare piede di Tobia e l'angelo che gli dice come deve fare di afferrarlo, di prendere gli organi, il cuore, il fegato, il fiele. E' lui che lo consiglia. E' lui ancora che gli dice, dopo che scappa il demonio, di alzarsi tutte e due e pregare. «Supplicate, dice l'angelo, supplicate il Signore del cielo perché venga su di voi la sua grazia e la sua salvezza». Ancora, quando Agar viene cacciata col figlio Ismaele nel deserto, è ormai alla disperazione. Mattio ascolta il pianto di Ismaele «E un angelo chiamò Agar dal cielo e le disse «Che hai, Agar? Non temere, perché Dio ha udito la voce del fanciullo. Alzati, prendi il fanciullo e tienilo per mano, perché io ne farò una grande nazione». Dio le aprì gli occhi «E della vide un pozzo d'acqua». Ecco, carissimi, ancora questi esempi. Cioè, quando uno ormai è all'estremo, pensa di non farcela, non sa come fare, Dio viene in aiuto e manda questi angeli per salvarci. Tutti questi esempi biblici che abbiamo elencato emerge che quanto accadeva a Natuzza, perché l'angelo non andava da lei per una passeggiata, ma per aiutare quelle persone in difficoltà che soffrivano per qualche situazione. Quindi quanto accadeva per la presenza degli angeli è in piena linea con la rivelazione. Non è fuori della logica della fede. Infatti, c'è un passaggio nella vita di Natuzza, il 29 marzo 1996, Gesù le appare e dice così «Filia mia, io sono sempre con te, ti ho lasciato in compagnia di San Gabriele e di San Michele Arcangelo». che Natuzza lamentava tante volte che si sentiva sola. «No, dici, io ti ho lasciato gli angeli». Vedete come torna questa idea della presenza degli angeli. La panoramica biblica, partendo dalla prima pagina all'ultima, c'è la presenza angelica. Per esempio, la chiusura del giardino dell'Eden con questi due angeli che bloccano ogni passaggio. L'annuncio dell'angelo a Maria. Invitano Giuseppe a non temere a sposare Maria. Consigliano i magi di non tornare da Erode. Cantano la gioia per la nascita di Gesù. Bellissimo inno, no? Gloria a Dio nell'alto dei cieli. Che la Chiesa, questo inno, ha posto al centro della liturgia. Sono i primi, gli angeli, a portare l'annuncio ai pastori. Al sepolcro è l'angelo che annuncia alle donne l'avvenuta resurrezione. E così ancora, e l'angelo quando more il povero Lazzaro, si legge in Luca al capitolo 16, dice che Lazzaro quando more fu portato dagli angeli nel seno di Abramo. E allo stesso modo, nella liturgia dei defunti, la Chiesa invoca in paradiso ti accompagnino gli angeli. Ecco. Sono gli angeli che pregano per noi. Dice ancora nel citato libro di Tobia, nella storia di Raffaele, dice Raffaele a Tobia Quando tu e Sara eravate in preghiera, io presentavo la vostra offerta, la vostra preghiera, la presentavo davanti alla gloria del Signore. Tuttavia, San Raffaele, l'arcangelo Raffaele, precisa qual è il suo rapporto tra Dio e gli uomini. e così quello di tutti gli angeli. Quando ero con voi, dirà sempre nel libro di Tobia, quando ero con voi, io non stavo con voi per mia iniziativa, ma per la volontà di Dio. Lui dovete benedire. Dovete benedire sempre a Lui. Cantate inni. E cioè, questo è molto importante. Gli angeli ci spingono, ci portano verso Dio. Mai verso se stessi. Che loro sono ministri, ma così pure la Madonna, così i Santi sono tutti ministri che spingono verso Dio, a guardare a Dio. E a Lui noi dobbiamo praticamente affidarci e consegnare la nostra vita. Ecco carissimi, allora anche in questa seconda parte abbiamo concluso questa breve meditazione Natuzza e gli angeli. Vedremo successivamente altri doni, Natuzza e i defunti e così via. Allora adesso per intercessione di tutti gli angeli, della Beata Vergine Maria, di San Giuseppe, e tutti gli angeli santi chiedo a Dio Padre di stendere la sua mano dal cielo e donarvi la sua benedizione di benedire gli ammalati di benedire le persone che vivono in difficoltà che hanno problemi scenda la benedizione di Dio sulle vostre famiglie su tutte le persone che stanno a cuore sugli ammalati sui vostri giovani scenda la benedizione di Dio Onnipotente Padre Figlio e Spirito Santo Amen Che il Signore vi protegga sempre e che i Suoi santi angeli siano sempre accanto a voi di Dio Onnipotente di Dio Onnipotente Dio Onnipotente